Nelle scorse settimane è nata l'associazione Il Sorriso di Michele, una realtà che ha l'obiettivo di ricordare innanzitutto suo fratello Michele. Ma come è nato questo gruppo e quali sono gli obiettivi? Allora, in questo gruppo è nato l'intenzione di creare questa associazione culturale, è nata poco dopo la scomparsa di mio fratello a causa di una leucemia fulminante. È nata all'interno del nostro gruppo familiare, da un gruppo di amici appunto di mio fratello, con l'intenzione di porsi obiettivi sociali, culturali, di beneficenza e soprattutto per sostenere la ricerca scientifica contro le leucemie. Avete già in mente alcuni progetti per il termine? Sì, allora il giorno dell'inaugurazione effettiva dell'associazione culturale Il Sorriso di Michele sarà il 18 luglio, sarebbe stato il compleanno appunto di mio fratello. Verrà fatta una santa mese, ricordo, alla diga del Gleno e verrà utilizzata la giornata proprio per inaugurare l'associazione, per raccogliere tesseramenti e per stare un po' insieme, cercando di ricordarlo con il sorriso come lui avrebbe voluto. Tre le aree di intervento, come abbiamo già detto, cultura, ricerca e sostegno, quindi probabilmente vi saranno anche eventi prossimamente organizzati in questo senso. Esatto, in realtà il vero primo evento sarà il 31 luglio, sabato 31 luglio è stato organizzato un torneo di pallavolo al campo sportivo di Bueggio. Mio fratello era un giocatore di pallavolo molto appassionato, aveva giocato in varie squadre della zona della Bergamasca, quindi abbiamo pensato di organizzare un torneo quadrangolare ad invito e abbiamo abitato appunto le squadre dove mio fratello ha giocato e anche ci saranno delle squadre della Valle di Scalve. Sarà un giorno di ritrovo per stare insieme, per rendere anche noti gli obiettivi della nostra associazione e per passare appunto del tempo insieme. Quindi la vostra è una realtà a cui le persone possono aderire? Esatto, ci sono diversi modi per sostenerci, si può fare una donazione libera al nostro IBAN oppure richiedere una tessera sostenitore annuale di 25 euro. Tutte le informazioni comunque sono presenti anche sui nostri canali social. E ogni anno ci sarà la giornata del sorriso? Esatto, abbiamo deciso di chiamarla in questo modo, di rimando appunto anche il nome dell'associazione Il Sorriso di Michele perché mio fratello era una persona estremamente positiva e l'idea di chiamare questa associazione in questo modo mi è venuta pochi giorni dopo l'accaduto, raccogliendo un po' tutte le testimonianze di amici, parenti, persone comunque che l'avevano conosciuto e il light motive dei loro discorsi era sempre sorridente, una persona positiva, era sempre divertente, particolare. Era un ragazzo straordinario nella sua semplicità. Quindi ho pensato subito a questo nome per l'associazione e di conseguenza anche a distituire questa giornata del sorriso che si ripeterà tutti gli anni, la terza domenica di luglio, in modo da portare avanti questo suo atteggiamento alla vita, nonostante tutte le difficoltà. Ovviamente in caso di maltempo il programma prevede delle modifiche. Esatto, per quanto riguarda il 18 luglio, in caso di maltempo, tutta la manifestazione si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Bueggio e per quanto riguarda il torneo di pallavolo del 31, verrebbe spostata al 1 agosto. Quindi speriamo di avere fortuna almeno in uno dei due giorni.